Oggi amici di Craysebook, allora bentornati al mio vlog, vlog numero 10 è un po' che non ne facevo uno, vi voglio aggiornare sulle mie ultime attività in questo format un po' più breve rispetto al solito e appunto vi aggiorno su quello che faccio, le mie attività, i miei prodotti, le ultime uscite quello che è nato sold out e in generale insomma appunto tutte le attività di Tommy Studio Allora sono appena tornato dal Nerd Trip Tokyo più Yokohama, viaggio bellissimo come al solito veramente ogni volta riesco a stupirmi di quanto sono belli questi viaggi Gruppo super, veramente ragazzi grazie mille per aver partecipato, vi voglio bene La novità di questo viaggio rispetto agli altri è che oltre alla settimana insieme ai ragazzi a Tokyo e Yokohama ho aggiunto un'altra settimana in cui sono rimasto da solo a Tokyo per andare a esplorare, aggiornare tutti quanti i negozi per Nerdvana Tokyo il mio libro in uscita il prossimo febbraio e di cui ho già aperto i pre-order quindi se vi interessa la first edition firmata da me di Nerdvana Tokyo la guida ai migliori negozi nerd della città più incredibile al mondo per i nerd andate su itomi.shop, i pre-order sono già aperti in quella settimana non solo ho rivisto, ho visto per la prima volta quasi 50 negozi Nerdvana Tokyo avrà veramente una selezione infinita di negozi tanto è vero che avrà 150 pagine invece che 100 che erano le pagine di Nerdvana New York perché era proprio inevitabile sono tantissimi chiaramente i negozi di Tokyo che voglio mostrarvi in Nerdvana raccontarveli e mostrarveli in video perché di ognuno come sapete nel libro c'è anche un QR code che rimanda a un videotour del negozio stesso in modo tale da rendervi subito conto di cosa tratta com'è strutturato, quanti piani ha eccetera, comodissimo in più ogni giorno ho visitato un quartiere differente di Tokyo sono rimasto lì anche la sera per cena e dopo cena e in serale ho scattato diverse foto con il mio nuovo setup che mi ero fatto appositamente per questo viaggio perché volevo sperimentare una nuova camera l'X-Pro2 di Fujifilm, nuova per me e una lente che avevo già ma non usavo da anni che è il 35 mm di 1.4 sempre di Fujifilm lente incredibile di questo e di quelle foto vi riparlerò in un video dedicato in tantissimi mi avete commentato su Instagram potete andare a vedere su Instagram nel frattempo mi avete commentato che setup usi qual è la ricetta di Fujifilm che usi ma escono così direttamente dalla macchina si escono così direttamente dalla macchina salvo sia in RAW che in JPEG e le foto che vedete ora su Instagram sono esattamente i JPEG usciti dalla mia X-Pro2 ogni sera le caricavo direttamente, comodissimo quindi voglio spiegarvi un po' e raccontarvi tutto quanto il mio setup fotografico come ho configurato la mia X-Pro2 perché secondo me così è comodo perché si presta a quello che volevo fare qual è il mio setup di borsa eccetera ci sta benissimo un video dedicato con molta calma però adesso come sto per spiegarvi devo dedicarmi e concentrarmi su altro altra cosa il video degli acquisti quindi il Tokyo Loot avevo detto prima di partire che questa volta comprerò poche cose mai ovviamente frase più sbagliata e ridicola semplicemente perché non solo mi sono fatto la settimana insieme ai ragazzi che per forza di cose si va in tanti negozi questa volta addirittura avevamo l'hotel ad Akiabara per cui ogni sera praticamente eravamo ad Akiabara quindi anch'io inevitabilmente ho comprato cose ad Akiabara ma li ho attaccato come vi spiegavo anche un'intera settimana da solo in giro per Tokyo a vedere 50 negozi quindi se mi conoscete anche un minimo saprete benissimo che sono vittima costante dell'incauto acquisto e andare a visitare dei bellissimi negozi per me vuol dire comprare sempre almeno qualcosa in più ho sfruttato l'occasione per fare un po' di ricerca visiva in particolare su magazine, riviste e libri anni 80-90 giapponesi che mi serviranno per un progetto che ho in mente il prossimo anno e quindi ho comprato un'infinità di cose un'infinità, verrà fuori un video lunghissimo ho comprato talmente tante cose che non mi stavano in valigia e mi sono auto spedito non uno ma due scatoloni di roba questo mi ha anche servito in realtà perché così potrò mettere un piccolo capitolo in Urbana Tokyo in cui vi spiego per bene come fare ad auto spedirvi cose dal Giappone se come nel mio caso arrivate a fine viaggio che non ci stanno dentro la valigia oppure pesano troppo e andate in overweight con la valigia come fare a spedirle in Italia l'ho capito ovviamente auto spedendomi cose e facendo un po' di ricerca mi dovrebbero arrivare questa settimana ci hanno messo abbastanza perché io sono già andato da credo oltre dieci giorni dovevano mettersi tre o quattro giorni ma ovviamente non ne aver affatto anche se la spedizione è molto costosa e avviene via aereo dovrebbero arrivare tra oggi e domani quindi appena ho anche quelle scatole lì ho ancora di sotto il mio valigione da cui ho tolto solamente i vestiti ci sono ancora tutti quanti gli acquisti dietro quindi farò il mio solito video degli acquisti del loot giapponese che sarà un video lunghissimo non so bene quando riesco a farlo ma lo farò senz'altro nelle prossime settimane poi parliamo con un po' di prodotti è in chiusura Epic 2 che come sapete è in consegna il prossimo dicembre entro la fine del mese spero entro Natale dovrei riuscire entro Natale sono lunghissimo come l'anno scorso chiaramente perché se non arrivo proprio con l'acqua alla gola non riesco a... sono così sono un procrastinatore maledetto mi metto a fare altre cose quindi fondamentalmente ci lavoro da un mese e mezzo due mesi quando invece magari avrei dovuto iniziare prima ma comunque questo riguarda me in ogni caso ancora un mese più o meno mi sono andato fino al 15 novembre gli articoli sono praticamente tutti già scritti mi mancano da scattare delle foto mi manca un oggetto che mi arriverà spero la prossima settimana in questi giorni ho iniziato la scorsa settimana a pubblicarli sul sito quindi su whatisepic.it perché di giorno in giorno mano a mano che scatto le foto prendo i testi che ho già li impagino e li metto anche sul sito in questa maniera potete voi andare a leggere gli articoli se vi interessano sul sito e magari darmi anche una mano con la correzione dei testi perché magari c'è qualche refuso quindi se me lo fate sapere c'è sempre un link in fondo a ogni articolo su whatisepic.it al mio telegram in modo tale che possiate segnalarmi eventuali refusi mi dareste una grandissima mano chiaramente e più io mano a mano lì impagino e vi mostro già anche delle anteprime sia su Instagram che su Facebook di come verrà il libro che mi pare interessante e questo mi aiuta chiaramente a portarmi avanti e a mostrare anche a voi come verrà il libro poi vi aggiungo anche sui prodotti sold out e disponibili ma per questo andiamo di sotto così vi mostro il mio magazzino andiamo giù andiamo andiamo giù vi mostro il mio magazzino qui in studio allora ecco qua che è sempre più piccolo purtroppo che è sempre troppo piccolo volevo dire nel senso che per adesso ho qui Epic 1 vi ricordo disponibile in pronta consegna Nirvana New York e poi arriverà il prossimo anno anche Epic 2 e Nirvana Tokyo che veramente non so dove metterò e boh non lo so continuerò di qua prenderò un altro spazio lo deciderò nel 2024 in ogni caso vi annuncio anche i sold out che sono questi due buchi qui c'era desktop il mio tappetone nella sua prima grafica dedicato a Takiyasha e la leggenda di Takiyasha appunto è sold out me ne rimane letteralmente uno qua nel mio archivio e basta eccolo qua e poi qui invece c'era Chronicle il mio notebook con relegatura svizzera che è andato sold out anche lui ne ho ancora io qualche copia qui nel mio archivio ma li tengo per me e non penso ragazzi di rifarlo a breve ne avete già chiesto e se sold out da una settimana già mi avete chiesto quando è che lo rifai ragazzi sapete che funziona così con i mini drop se vi piaccia la roba la dovete comprare perché quando finisce poi non la rifaccio in generale non la rifaccio in tempi brevi e spesso non la rifaccio proprio mai quindi se qualcosa vi piace compratela perché funziona così con me io faccio tirature limitate piccole per il resto abbiamo ancora disponibili qui in pronta consegna come vi dicevo Epic 1 Nirvana New York Notebook in tutti e quattro colori ne ho delle altre copie qua quindi Notebook se vi interessa il mio nuovo Notebook diciamo per scrivania o comunque per prendere appunto eccetera molto interessante ragazzi questo qui è un super prodotto che io adoro adoro veramente ho trovato secondo me il formato ideale perché si può usare sia in verticale che in orizzontale sotto alla scrivania e soprattutto da una parte è dotted e dalla parte opposta invece ha i to do oltre ad avere la possibilità di strappare le pagine grazie al tratteggio preforato quindi veramente per me uno dei prodotti più belli che ho fatto soprattutto anche grazie al cartoncino nero super spesso che ha dietro e che gli permette di insomma avere un'ottima rigidità per un Notebook di questo tipo in più sono ancora disponibili sette copie di container Kintaro il Kintaro set bellissimo ragazzi questo è veramente bellissimo invece l'Empire set è sold out e chi l'ha preordinato lo riceverà entro ottobre quindi ci siamo riceverò il packaging dell'Empire set questa settimana se tutto va bene e la prossima settimana dovrei spedire tutte quante le coppie già preordinate e ora sold out direi che questo è quanto spero di non essere mi scordato niente ah il nuovo Nerd Trip continuate a chiedermelo giustamente Nerd Trip Japan quindi quello lungo quello bello quello che vi consiglio sapere di fare quello di due settimane torna nel 2024 in primavera in aprile arriverà sul sito Nerd Trip a brevissimo stiamo veramente solamente aspettando un paio di conferme i voli sono in casino perché c'è una richiesta altissima i prezzi si sono molto alzati tutti vogliono andare in Giappone quest'anno era proprio l'anno del Giappone dopo che hanno riaperto la fine dell'anno scorso tutti quest'anno volevano tornare in Giappone giustamente perché è rimasto più su tre anni quindi insomma c'è un po' un casino però stiamo aspettando le ultime conferme lo metteremo sul sito e apriremo appunto le iscrizioni tra qualche giorno quindi andate su nerdtrip.it slash newsletter e iscrivetevi alla newsletter per ricevere un email quando sarà disponibile il nuovo bellissimo Nerd Trip Japan che ha diverse novità veramente ma sarà un viaggio stupendo aprile 2024 prendete già le figlie detto questo direi che torno a lavorare perché ho veramente un sacco di robe da fare in particolare su Epic 2 quindi devo fotografare devo scrivere devo paginare fare robe e basta devo smettere di fare altro chiudere il libro in modo tale da finirlo e mandarli stampa per il attorno al 15 novembre come vi dicevo in modo tale che poi mi arrivi stampato qui i primi di dicembre e possa subito iniziare spedirvelo e voi lo scenderete nella prima o la seconda settimana di dicembre questo è quanto spero di non avervi annoiato questo è il vlog numero 10 fatemi sapere nei commenti se avete dubbi commenti eccetera insomma parliamo nei commenti insieme e noi non dovessimo vi rivederci buon pomeriggio buonasera e buonanotte ciao giovani grazie a tutti